L'ex sindaco Davide Brunasso ha convocato lunedì sera i giornalisti con l'intento di sottolineare l'archiviazione di alcune pendenze giudiziarie al suo carico e fare chiarezza al riguardo. Non mi sono sottratto a nessuna verifica e a nessun controllo, ha affermato Brunasso. Voglio rimarcare che non sono indagato e questo al di là di una possibile candidatura. Se si candiderà o meno lo svelerà la prossima settimana. Certo è che se deciderà di scendere in campo lo farà per vincere. Secondo Brunasso stavolta potrebbe vincere chi riesce a unire e non a dividere, ma il clima è avvenenato. Cerca la questione giudiziaria Brunasso ha letto alla presenza dei suoi due legali le dichiarazioni che si era preparato in modo da essere il più preciso possibile. Questa sera ho chiamato i miei allocati Giada, Caudera e Gianluca Garaffo e ne ho richiesto la presenza perché volevo terminare questa campagna mediatica che mi dipinge come pur indagato quando in realtà le cose non stanno nei termini riferiti e riportati. Carte alla mano non risulto allo Stato né pregiudicato né con carichi pendenti. Questi sono il certificato dei carichi pendenti della Procura di Ivrea e il certificato del casellario giudiziale del Ministero della Giustizia. Sono qui, sono giornati al 14 di aprile che parlano. Con riferimento alle denunce fatte dal Dottor Marocco presso la Procura di Ivrea, è con grande piacere che per quanto riguarda il discorso dei tabulati telefonici il procedimento è stato archiviato perché il fatto non sussiste. L'amministrazione infatti ha risposto correttamente e l'assenza di dodo nella condotta dei parei venuti è altresì dimostrata dalla consegna effettuata al Marocco di 48 fatture in possesso del Comune. Questo è l'estratto del provvedimento di archiviazione. Come riferimento alla denuncia fatta per peculato per l'utilizzo del cubo, la Procura di Ivrea ha altresì disposto l'archiviazione perché il fatto non sussiste, in quanto a supporto delle spiegazioni fornite da me, quindi Brunasso produceva idonea documentazione reperita presso le amministrazioni annotate sul registro. L'assenza di dodo nella condotta è altresì dimostrata dalla venuta consegna del registro con ciò dimostrando come la sua intenzione non fosse comunque quella di sottrarsi alle verifiche. E' stato quindi creato e alimentato un clima infamante e demigratorio nei confronti dell'avversario politico. Queste questioni non hanno nulla a che fare con la politica, è puro discredito, disprezzo, infamia e calugna nei miei confronti. Tutto questo dimostra oggi con chiarezza quanto le battaglie politiche condotte contro di me siano state solo incivili, infamanti, calugnose e pretescuose, al solo fine di destabilizzarmi e crearmi un'immagine non veritiera e distorta. Si è presa in giro la gente per puro interesse politico personale, sperando nei tempi lunghi della giustizia sia giocato sulla buona fede delle persone, ma chi ha messo in atto questo gioco al massacro è adesso colpito da un boomerang politico, un clamoroso autogol per usare una metafora calcistica. Ho reagito, abbiamo reagito anche con il mio gruppo, con forza e con chiarezza. Non sono stato ferito io, è stata ferita Valperga e Valperga non meritava e non merita che si faccia politica denigrando e delegittimando l'avversario politico. La politica del fang e della calugna sono una vergogna e dimostrano la pochezza delle persone che le portano avanti e la loro incapacità di confrontarsi non avendo argomentazioni serie. Tutto questo dovevo ai tanti elettori, agli amici, ai cittadini e in particolare a mia mamma e alla mia famiglia che mi hanno sostenuto e che credono e hanno sempre creduto in me.